Bella boys e schiere, sono il paurino nazionale e oggi uscirà un video molto figo è una collage, una highlights di tutte le mie partite che ho fatto nello Showdown Blitz per chi non sapesse cos'è, lo Showdown Blitz è un evento che viene fatto da Epic Games dove si può arrivare tra i primi 100 giocatori del proprio continente e poter vincere dei V-Bucks come si fa? Bisogna giocare 25 partite in questa modalità e totalizzare dei punti si ottengono dei punti in base al piazzamento più 3 punti per ogni kill io dovrei aver totalizzato 2693 punti, è un ottimo punteggio su 25 partite ne ho vinte addirittura 18, molte belle posizioni, ho un sacco di kill tantissime belle giocate, partite al cardiopalma, pure fail, un sacco di cose il video uscirà più tardi, uscirà dopo, diciamo che sarà uscita la graduatoria quindi la classifica del Blitz Showdown io quindi spero che verrete a vederlo perché è un video che ci tengo tantissimo quindi vi faccio un salutone e ci becchiamo più tardi let's get it boys let's go boys let's go boys let's go boys let's go boys Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Fuck Secondo posto con 4 kill Primo game 50 HP Mannaggia Grazie a tutti Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ulle Bell bait Where are my shieldinos My shieldinos Grazie a tutti Mamma mia Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Mi ha cecchino Oddio Oddio No vabbè rega Bella 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 così Grazie a tutti Eh Eh son morto dalla safe Sono morto dalla safe Let's fucking go, boys Take that shit, my brudas Oh, oh, oh Ma che trolliamo? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh No, sono caduto, no No, sono caduto Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Let's go, baby Sì Vabbè fan c'olo va No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Boom, baby. 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 No, mi ha cecchinato un altro. Mi ha cecchinato l'altro. Peccato. Peccato. GG. GG, bro. No, mi ha cecchinato un altro. No, so, mi ha cecchinato un altro. No, son morto così. Mi sono bloccato nell'albero. No. Olle. Dai. 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 Olle. Dai. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.